L'aula capitolare del Carmine a Licata è stata cornice di un incontro tra il gruppo politico Noi e la città. L'evento è stata l'occasione per condividere idee con le associazioni di categoria e i liberi cittadini al fine di concertare e predisporre un programma per la città che, a ferme del promotore e candidato a sindaco Angelo Cambiano, ha bisogno delle sue migliori energie e non merita di trovarsi nelle condizioni in cui attualmente è purtroppo versa. L'intento, aggiunge Cambiano, è quello di dare continuità al progetto di cambiamento intrapreso un anno e mezzo fa in sinergia e stretto contatto con le energie produttive e sociali della Licata. Il che vogliamo, nella consapevolezza che il riscatto e il progresso di questa città non potranno mai prescindere dall'impegno e dalla volontà di tutti. Di tutti noi insieme, tra gli altri, ai consiglieri comunali di Forza Italia e in particolare del gruppo che si riconosce nelle posizioni politiche del deputato nazionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo.